Il fintech non può che essere un'opportunità perché è un semplificatore di processo. Il fintech nasce, se tornate indietro un po' alle origini, a un tema di capacità computazionale sempre più potente. È stato un trend esponenziale che ovviamente ha avuto un impatto tecnologico ma ha avuto anche un impatto nei comportamenti, nelle abitudini. Allora, chi fa il mio mestiere ha da una parte il vantaggio di avere un lavoro che è basato su professionalità e relazione, insostituibile dalla tecnologia e dall'altra ha lo svantaggio che è un settore che esiste da sempre e che quindi trova difficoltà nel cambiamento repentino e se cambiano le abitudini delle famiglie nell'utilizzo della tecnologia, anche chi fa il mio mestiere deve essere, come dire, sveglio, veloce ad aggiornare le modalità di interazione e di relazione tra il banker, la banca e i nostri clienti. Ma il core business, diciamo che se ha un effetto, ha un effetto positivo perché migliora la relazione. Oggi il mondo del fint può essere una grandissima opportunità per gli incumbent e per le banche per poter rinnovare e alimentare i processi di innovazione e quindi poter consentire di fare quel salto anche culturale, oltre che di trasformazione digitale, che può rappresentare una grande opportunità per il futuro. Credo che certe attività che richiedono ancora moltissima relazione, qualcosa che non può essere fatto dall'intelligenza artificiale, non può sostituire l'uomo, però la tecnologia oggi per tante attività ripetitive, cioè per fare un bonifico non è che ci sia moltissima intelligenza, per fare tante cose che fino a ieri facevamo presso uno sportello è molto più comodo oggi farle attraverso la tecnologia. Quindi quello che vedo è, si interpreta quello che fanno magari le aziende tecnologiche nel semplificare la vita dei consumatori come un modo per disintermediare le banche, in realtà quello che è la nostra filosofia è semplificare la vita, lo facciamo noi, lo fa Amazon, lo fa Google, tanti operatori, che poi questo vada a toccare il mondo fintech è un di cui, però in generale la missione è sempre quella di utilizzare la tecnologia per rendere più semplice la vita alle persone. Grazie. 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 Grazie.